Sono rientrati in servizio dal primo giugno gli operatori a tempo determinato della comunità montana Vallo di Diano. Il loro ruolo, ha detto il presidente Cavallone, è fondamentale per contrastare le emergenze legate alla stagione estiva. Per questo motivo li abbiamo rimessi a lavorare nonostante la regione non abbia ancora proceduto alla distribuzione delle nuove risorse destinate agli enti montani. Siamo ripartiti perché era anche giusto che fosse così con gli OTD, però è da precisare che la ripartenza quest'anno dal primo giugno del 2021 è fatta con le somme residuali del bilancio dell'anno precedente. Perché la regione, sebbene sembra già abbia deliberato per l'anno in corso, non ha ancora comunicato, soprattutto non ha ancora distribuito quelle che sono le risorse per l'anno in corso. Quindi siamo pronti per ripartire con questi lavoratori. Saremmo presenti, come al solito, sui 15 cantieri, 14 che riguardano i comuni della comunità montana, più un cantiere del comune di Pertuso. E quindi un augurio a tutti questi operai che ripartono di nuovo per una nuova stagione lavorativa.